Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Ma benco, formazione e strategie per l'evoluzione del business, mabbmanagement.it Dopo ogni vittoria l'esaltazione, dopo ogni sconfitta invece la depressione e il sistema del calcio italiano che funziona così senza avere una logica che vada di là del risultato sul campo, perché basta un gol al 94esimo molte volte per farti cambiare idea su una situazione che invece è stata sviluppata in un determinato modo e cioè magari andando a giocare male e a speculare su quell'unico episodio che ti cambia la partita. Il gioco, l'insieme, la valorizzazione dei singoli è un processo molto più lungo di quello che in questo momento si pone l'intero settore giovanile italiano, perché? Perché si inizia troppo presto con la tattica, si inizia troppo presto con il valorizzare il successo, la vittoria dei mediocri sui mediocri e non il tentativo di far crescere, quasi sforzano tanti atleti individuali, i calciatori fino ai 14-15 anni, prendendo in relazione il fatto che la crescita non è solamente un fatto tecnico, non solamente un fatto atletico, ma anche un fatto mentale. E questi due aspetti sono quelli determinanti per poter creare degli atleti e dei cari professionisti che possano essere sempre con la mente proiettata al proprio miglioramento. Migliorare vuol dire assolutamente prendere in considerazione se stessi, così come lo fa un atleta che deve correre con i 100 metri, deve migliorare sempre il suo tempo. Anche nel miglioramento individuale si dovrebbe puntare al tasso di crescita di un calciatore, indipendentemente della sua sistemazione in una squadra, indipendentemente dal risultato stesso della squadra. Ogni elemento dovrebbe lavorare per se stesso, dovrebbe lavorare per potersi ancora divertire, per poter affinare la tecnica, per poter sperimentare il gioco e invece molte volte sono chiusi già in una gabbia, che è quella del risultato che bisogna ottenere, di un ruolo che viene definito sulla base di quelle che sono le abilità di partenza e non di quelle che si sviluppano poi nel corso di un tracciato, che è un tracciato di crescita costante, che deve diventare una mentalità, che deve diventare veramente la valenza stessa del fare sport. Il percorso più importante del successo, l'abitudine a sacrificarsi più importante dell'effimera grande giocata. Insomma, tutti gli aspetti che nel settore giovanile che attualmente l'Italia sviluppa vengono talvolta meno, perché si valorizza il talento che subito si esprime, si valorizza la prestanza fisica che viene raggiunta per prima, viene raggiunto e viene valorizzato esclusivamente colui che riesce ad esprimersi in anticipo rispetto agli altri, non tenendo conto che molte volte le tappe della crescita sono invece diverse e che molte volte dietro quello che sembra essere un giocatore che in quel momento è scarso, si può nascondere veramente. Il grande talento, quello capace di perseverare, di mettersi a lavoro costantemente, di superare le difficoltà, tutti gli aspetti che poi nell'ambito di una carriera e nell'ambito anche di una sola partita finiscono per essere determinanti. Quindi bisogna rivedere sostanzialmente, indipendentemente, anche quando si parla di programmare qualcosa dal risultato ottenuto dalla propria nazionale. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. MabManagement.it